bene signori e signore benvenuti nel mio canale e benvenuti in un altro video di video gameplay oggi porteremo a practice requiem andiamo avanti iniziamo il terzo capitolo insieme e ringrazio tutti in anticipo ringrazio tutti coloro che si aggiungeranno la live qui su twitch oppure metteranno mi piace sul video su youtube e si iscriverà al canale sia su twitch che su youtube su youtube siamo arrivati oltre 150 iscritti sono felicissimo ora destinazione 200 a tutta birra via partiamo riusciamo da parti convenevoli ed eccoci qua terzo capitolo piove di rotto quindi andiamo di là che bella acquazzone che c'è qua riparatevi noi c'è un cazzo proprio anche se siamo abbagnati fino alle mutande non importa andiamo allo testo e dove dobbiamo andare eh beh sì tutti quanti sono andati via per forza piove di rotto non siete con me non sono come voi che correte proprio basta ma piove o è uscito il sole ampio vi più vicina sempre pronto vai andiamo spingete la porta bene dove andiamo adesso che famo schermata bianca caricamento oh 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 fantastico ok se siete vegani non guardate non guardate sta cosa eh giratevi parte vabbè andiamo e ce lo non promette bene quindi ci può passare quindi dobbiamo passare da un'altra parte possiamo passare qua dove sei ok ok oh che bello che schifo altri posti no mamma mia mamma mia ok qua buttano tutte le le carcasse della degli animali mamma mia che schifo serviranno 100 mila 100 mila docce dopo ok via 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 che ho schifo eh sì non hai rovinato sugli stivali ok andiamo di qua quindi bello perfetto ok prendiamo un po' di fuoco fuoco alcol e zolfo quindi aspetta creiamo un po' di perfetto di vasetti anche ah sono già pieno perfetto ok sono pieno di tutto guarda quanti belli sorci via fuori sorci vado retro ok ok quindi non possiamo passare usiamo usiamo i i vasetti esatto bussate via ok e beh sì vengono per la carne mamma mia che schifo qui si può andare su questa porta no aspetta qui abbiamo un animale non ben definito si ma si lancia una pietra con la con la fionda con un sacco ok ok ah hai capito ok Perfetto, bravo. Allora, facciamo così. Vieni, Lucas, vieni qua. Lucas, sì. Dai, andate a mangiare. Dai. Vi do la pappa. Andate. Oh, bravi. Andiamo su. Qui prendiamo ancora altri oggettini vari. Rotami e Zolfo. Ok. C'è qualcos'altro qui? Oh, un coltello. Buono. Quindi fra poco dovevo fare un po' di stealth. Ok. Simpatico sti posti, eh? Molto... Molto gioviali. Oh, brutto stronzo. Eh, sì. Ok, si è guarita, sì. Qui hanno segnato. Stanno uccidendo tutti. Oddio. Sorci. Ok. Uh, così grazie. Grazie. Tieni premuto per aprire la selezione. Ok, perfetto. Posso spegnere le lanterne. Molto bene. Quindi, i soldati lì fanno brutta fine adesso. Oh, ma... Ma se io passo qua mi fanno qualcosa, no? No, vero? Sono magnà. Tanno magnà. Ah, qualcosa il tipo qua. Aspetta che riaccendo. Ah no, proprio zero. Non si spostano da là. Vabbè, mangiate, mangiate. Ok, quindi... Posso, in teoria, spegnere lì. Esatto. Proprio così. Visto? Eh, è utile sta cosa, eh. Molto utile. Qui passiamo. Ok. Ok, andiamo di qua. Qui li stanno mangiando. Prendiamo un rametto. Ok. Prendiamo un po' di roba. Perfetto. Qui c'è... Qui c'è qualcosa. Ok. Sì. Dai. Quindi? Via, 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 via. Via, 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 via. Via, via, via. Mamma. Questo passa, tranquillo. Succede niente. Cosa devo fare qua? Allora, aspetta. Questa? Ah, ho capito. Dovevo distrarlo. Farò venire giù. Dov'è la chi andrà? Sola qua. Sei tu? Non c'è nulla. Ok. Ok. Ci siamo riusciti. Ci siamo sbarazzati del tipo. Quindi andiamo a prendere gli stecchini qua. E saliamo le scale. Ok. Ok. Via. Andiamo? Pussate via. Sorci infami. Ok. Presa anche questo. Quindi io andrei a accendere questa. Perfetto. Poverino l'hanno sventrato proprio. Ok. Andiamo di là su quelle scale. Quindi. Uh. Fermo. Eccolo qua. Perfetto. Scale. Vediamo se portano a qualche parte. Qua c'è un bel baule qua. Totami. Attrezzo. Ok. Perfetto. Abbiamo preso un miglioramento per l'equipaggiamento. Qua c'è qualcosa da fare, no? Due torce. Il tuo vasetto di non vestirse spegnendole va a dare... Uh. Perfetto. Ma bene. Ragazzi, mi dispiace. O io o voi. Hai capito. Hai capito. Ok. Quindi. Dobbiamo andare di qua. Vai. Vediamo su. Ok. Quindi dobbiamo correre. Pronto? Tre. Due. Uno. Vai. Corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Avanti, 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 dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Ok, siamo passati. Siamo passati. Buon lavoro.